In compagnia della dirigente scolastica dell'Icio Volta di Foggia, la dottoressa Grilli, alla quale chiediamo subito già due incontri importanti presso uno degli istituti più prestigiosi della città per informare i ragazzi che vogliono avvicinarsi appunto a questa scelta per lo scientifico Volta di Foggia. Sì, infatti, abbiamo già avuto due appuntamenti, come poc'anzi giustamente è stato ribadito. Il prossimo appuntamento è il 13 febbraio pomeriggio dalle 16.30 alle 19.00, aspettiamo numerosi i genitori e gli alunni con l'obiettivo di fornire informazione rispetto a quella che è la nostra offerta formativa, gioco di parole. Noi siamo una scuola aperta all'Europa, abbiamo avuto quest'anno, ad esempio, siamo stata l'unica scuola nella regione Puglia di avere avuto un finanziamento molto cospicuo dei fondi europei, e cioè abbiamo avuto circa 800.000 euro per far andare ai nostri ragazzi, 140 ragazzi all'estero, a costo zero per i ragazzi. Questo è il mio costo zero, e sono stati per un mese intero all'estero, con METE Londra, Birmingham e Dublino. Duplici obiettivi da un lato, le competenze linguistiche sono migliorate ovviamente, dall'altro hanno avuto la possibilità di conoscere realtà diverse da quelle locali italiane e foggiane nello specifico, quindi una grande apertura. Siamo una scuola che si pretta verso il futuro. Ogni competenza è certificata a livello internazionale con Europass, ho certificati di livello valido a livello internazionale. Facciamo anche dei corsi, programmiamo dei corsi di lingua straniera anche per il bilinguismo, quindi spagnolo e tedesco in fascia antimeridiana, e cerchiamo di dare spazio al merito, ma poi a parità di merito diamo spazio alle classi sociali meno abbienti. Grazie a tutti.